allora dovrei stiamo vedendo un po tutte le stanze di questa casa non è una casa piccola direi questa è la cucina giusto? si questa è la cucina dove cucinano i ragazzi mangiano tutti insieme qua? si mangiamo tutti insieme visto che siamo 14 facciamo al giorno 6 mangiano quando finiscono 1,2,6 quando loro finiscono mangio io e altri 3 così visto che loro hanno finito di mangiare mangio io allora l'ultima perché è normale per me è uguale certo certo e hanno iniziato a cucinare stamattina visto che siamo arrivati allora abbiamo lasciato e dopo finiamo certo e secondo me teniamo sempre che la cucina sta sempre pulita sempre pulita si grazie e avete visto comunque tutto è pulito di là e proseguiamo ok questo è la mia cosa, visto che è qui la più piccola allora io ho trovato il con loro, io torno con loro e così guardo come fanno le cose. Comunque questa è la mia. La sua stanza, ok. Questa è l'atma Jun. Certo. Questa è la stanza, visto che la camera è un pochino piccola, abbiamo messo un castello, un elettro castello, per due persone, è sempre pulita. Un massima puliscono la sera, tutta fumita. E andiamo da un'altra camera. Quattro persone, abbiamo due letti, da castello, e hanno tutti il loro armadio. Direi che sono organizzati, sempre tutto pulito, anche qui. Sì, sì, sì. Per le 17, va bene. Questo è il piccolo palco, non si è. E questa è la stanza di quattro persone. Dio l'ha letto a castelli e avete visto tutto pulito. Certo, sì. Abbiamo tutti il castello pulito, poi di Napoli. Qui si spesso il bagno. Qui la luce è lì. Ok, allora ci troviamo. È tutto pulito e in alto. E poi c'è l'ultima stanza. Sì. E poi c'è l'ultima stanza. Sì. E poi c'è l'ultima stanza. Sì. L'ultima stanza che tutto è pulito anche io. Quindi sono tutte stanze da quattro? Sì. Perfetto. 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 Grazie a tutti.